Italia 1 ricorda con uno speciale Maurizio Mosca. Il giornalista è scomparso il 3 aprile 2010, dieci anni fa, l'addio a un conduttore amato e divisivo, che sulla sua tomba ha voluto come epitaffio, ho cercato di spargere allegria tra la gente. Le immagini del documentario in onda stasera 3 aprile sono tratte da un progetto di Andrea Sanna del 2012, ricordando Mosca. Sandro Piccinini, Alberto Brandi, Massimo Moratti, Carlo Frecero, Gene Gnocchi saranno alcuni dei personaggi che stasera ricorderanno il giornalista sportivo. L'uomo del pendolino magico e delle indimenticabili bombe di calciomercato ha fatto affezionare il pubblico televisivo con programmi come il processo di Biscardi, guida al campionato, contro campo. Maurizio Mosca nasce a Roma il 24 giugno 1940. Figlio di Giovanni Mosca, umorista e giornalista, e fratello di Paolo Mosca, scrittore, inizia fine al quotidiano La Notte di Milano. Da lì alla gazzetta dello sport che sarà il suo giornale per oltre 20 anni. È nel 1991 che diventa personaggio televisivo con l'appello del martedì, che lui conduce vestito con una toga.